Noi ci portiamo avanti con il lavoro per dare il prima possibile a questo Paese il governo del cambiamento che i cittadini aspettano da 30 anni. Per questo abbiamo costituito un comitato scientifico che partendo dai 20 punti per la qualità della vita degli italiani possa porre le basi per scrivere il contratto di governo al centro, l'interesse e il bene del Paese. Ma si inseria oggi? Questo non glielo so dire, grazie. E quanti membri? Lo saprete, grazie.